Salute cazzo che siamo in diretti. Ah salutiamo da Lazzano, proloca Lazzano. Rai Vincenzino con il. È l'unico che mi difende. Sì, sì, sì. Cosa c'è di minuto? Ho un imparato di marmelletta. E la marmelletta come funziona? Sì, tre. Tre? Chi viene adesso? Mettemelo da parte a me che dopo ritorno. No, da parte no. No, qua, vado più in fondo e torno indietro. No, facciamo in bianco. Fa gli altri, sì. Ma solo uno? E io quando ti torna? Io ti metto a parte. Proloca Lazzano. Martina Zoccoli, servizio civile, 2022. Ma tu sei Martina Zoccoli? Sì, riprendi pure a Chiara Pastino. Non metti la mano. Tu sei una mia che mi segui? Chiara Pastino va ad amici, inserate. Almeno conosco qualcuno che è un'amica. Grazie, grazie. Abbiamo una cavolata immensa e io non penso che l'ho già fatta, eh. Se la fai approfondendo. È una bella grossa? Io la faccio una bella grossa. Sì, grazie. Con fiore, con fiore. Io la faccio una bella grossa. Daggi un saluto che è giusto, eh. Saluto che è giusto.